No, non vado in classe perché ogni due denti saranno difficili. Quando avevo la dentista in classe non ci vanno niente di denti. E' buccale cura alla sacchettatura identificata. Non li voglio tenere le testa. Non li voglio vedere anche loro. Non li voglio tenere le testa. Non li voglio tenere le testa. Non li voglio tenere le testa. Non li voglio tenere. Grazie a tutti.